E salve tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video domenicale in cui riassumeremo le novità più interessanti accadute nel mondo della tecnologia durante l'ultima settimana. Prima di cominciare però mi sembra doveroso spendere due parole sul CES 2019 che si è svolto a Las Vegas e si è concluso due giorni fa. Per quello arriverà un video dedicato domani delle 5 attrazioni del CES che mi sono piaciute particolarmente. Ho preferito non parlarne durante lo svolgimento della fiera dato che alcuni miei colleghi si trovavano sul posto, colgo l'occasione per congratularmi un sacco con Blink e Nerd Club che appunto si trovavano lì a Las Vegas e hanno già portato molti contenuti a riguardo. Quindi se volete accedere subito alle informazioni sul CES vi invito a passare per i loro canali. Detto questo domani ci vediamo con un video sul CES, oggi invece un video molto particolare sui rumors e leaks riguardo i nuovi iPhone che verranno presentati nel 2019. Sicuramente li avrete già visti perché questa volta è diverso rispetto a tutti gli altri leaks e rumors. Questa foto è diventata letteralmente virale su internet, è andata ovunque, l'avrete vista probabilmente anche in televisione. E questa diffusione di massa non è mai buona per un rumor perché poi se ne è parlato così tanto che ha perso un po' il suo significato, la sua fonte di origine ed è diventata una cosa quasi ufficiale per le persone. L'iPhone 11 Max sarà così, punto. E invece non è proprio così, solo per il fatto che ne abbiano parlato tutti, per esempio è stata ripresa anche da Hypebeast su Instagram. Questo però non significa che sia da dare per autentica al 100%. Prima di analizzarla è importante capire da dove proviene e qual era il suo scopo originale. Prima domanda lecita. Si tratta di un concept o di un leak? Per chi non sapesse la differenza tra concept e leak, il leak è un qualcosa di trapelato ma che proviene dall'azienda madre, quindi un qualcosa di, diciamo, semi-ufficiale, la cui provenienza è direttamente dall'azienda proprietaria. Il concept invece è un'idea, un progetto che è completamente staccato dall'azienda proprietaria e dall'azienda originale, che nasce nell'idea di qualche grafico che poi decide di trasformarlo a computer in un'immagine effettiva. Ebbene, quest'immagine, o meglio queste immagini perché sono più di una, sono dei concepts, non sono dei leaks. In particolare l'immagine è un concept di Steve McFly, conosciuto meglio come OnLeaks su Twitter, ed è stata realizzata e renderizzata in collaborazione con DigitIndia. OnLeaks è indubbiamente una fonte molto affidabile per quanto riguarda i rumors sugli smartphone Android e sugli iPhone. Molte delle sue predizioni in passato si sono rivelate fondate, si sono avverate. Però non ci dimentichiamo che questa è comunque una sua idea personale, non l'ha prelevata direttamente da Apple. Secondo lui, i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Max, oppure chiamiamoli XI e XI Max, saranno così. Voi cosa ne pensate? Indubbiamente è molto strano. Ovviamente quello che balza subito all'occhio è il design particolare della fotocamera posteriore, che sarà a tripla lente. Però questa disposizione a triangolo con il flash in alto a destra, che non è proprio coerente con il resto della grafica, a me fa restare abbastanza in dubbio. Peraltro nel render si vede un iPhone in colorazione Jet Black. Non so se è perché si ha qualche indiscrezione sul fatto che possa ritornare questa colorazione, e io lo spero perché sull'iPhone 7 e 7 Plus era stupenda. Oppure se è semplicemente per fare il render della colorazione più bella che ci possa mai essere. Non fraintendetemi. Certamente quest'anno vedremo altri due modelli di iPhone top gamma, l'iPhone XI e l'iPhone XI Max, e certamente almeno uno di questi due modelli avrà la tripla fotocamera. Fosse anche solo per una questione di marketing, oramai la concorrenza ha aumentato il numero delle lenti posteriori, lo deve fare anche Apple. Secondo me solo il nuovo iPhone Max avrà tre lenti, e non saranno disposte in questa maniera. È assolutamente antiestetico e non sarebbe in linea con quello che ha fatto Apple in passato, però è comunque un'ipotesi, un concept di Onleaks, quindi va tenuto in considerazione. Quello che però è importante da specificare, da chiarire, è che per realizzare queste immagini non è stata coinvolta Apple, e queste immagini non sono state prelevate, non coinvolgono in alcun modo l'azienda di Cupertino. È un'idea che è frullata nella testa di Onleaks. Quello che invece sembra essere un leak è che forse, dopo più di un anno, la produzione dell'AirPower sarebbe effettivamente cominciata. Per chi si fosse perso qualche tassello, l'AirPower è questo dispositivo di cui Apple promise il rilascio imminente al keynote di settembre 2017, ed era una base ricaricatrice senza fili che prometteva di poter caricare l'iPhone, l'Apple Watch e le nuove AirPods di seconda generazione in un colpo solo. Da quel momento in poi non abbiamo più avuto notizie ufficiali e questo dispositivo non si è mai più visto sugli scaffali. A sostenere che la sua produzione di massa sia effettivamente cominciata è il sito cinese Charger Lab, che sostiene di essere a stretto contatto con la LuxShare Precision, uno dei principali fornitori di Apple, e che questi ultimi avrebbero iniziato la sua produzione di massa. C'è anche uno screen di una conversazione cinese su WeChat, in cui questo tizio dice «Ho sentito che l'AirPower verrà rilasciato presto, è già in produzione». Tenete conto che si tratta comunque di uno screen di una conversazione. Potrebbe benissimo essere stato falsificato, però è plausibile che adesso Apple da un momento all'altro potrebbe iniziare a vendere l'AirPower e a questo punto anche la cover batteria per l'iPhone X e XS, di cui avevamo già parlato nel video precedente. La cosa divertente però è che se l'AirPower dovesse venire commercializzato con le immagini originali che sono state proposte un anno fa, mancherebbe un altro prodotto, ovvero le AirPods di seconda generazione, quelle che effettivamente si potranno ricaricare senza fili. Nemmeno quelle sono state presentate, quindi se Apple dovesse rilasciare l'AirPower, in concomitanza dovrebbe rilasciare anche le nuove AirPods di seconda generazione. Dovrebbe fare un drop unico. E secondo me la difficoltà vera e propria nella realizzazione di una base ricaricatrice di questi tre prodotti sta nel fatto che l'Apple Watch si ricarica a induzione, Invece gli altri due avranno uno standard QI, quindi all'occhio umano è sempre una ricarica senza fili. Però la tecnologia utilizzata è diversa e fondere queste due tecnologie nella stessa base potrebbe non essere così semplice. Ultima notizia per quanto riguarda Apple, poi ne arriva una della concorrenza veramente scottante. Il gigante della mela starebbe spostando la produzione perlomeno degli iPhone top gamma in India, già a partire da metà 2019. Questa decisione sarebbe spettata a Foxconn, la famosissima e gigantesca azienda a cui si appoggia Apple, così come tantissime altre case produttrici, per la realizzazione dei componenti elettronici dei suoi dispositivi. Quest'ultima sarebbe pronta ad investire circa 25 miliardi di rupie indiane, che corrisponderebbero circa a 310 milioni di euro, per ampliare la produzione in India anche ai nuovi iPhone. Tutto ciò per diminuire o quantomeno contenere i loro costi di produzione. In particolare in questo modo verrebbero abbattute le spese di importazione dei componenti da assemblare, perché si troverebbero già lì in India, quindi andrebbero solo messi insieme, detto in due parole. E questo potrebbe avere un impatto finale sul prezzo del dispositivo, potrebbe abbassarlo o quantomeno non farlo aumentare di nuovo, dato che abbiamo visto che Apple ha avuto qualche problemino ultimamente con gli iPhone troppo costosi. Una delle reazioni collaterali delle risposte per ovviare a questo problema sarà appunto lo spostare l'assemblaggio degli iPhone dalla Cina all'India. Esperimento che peraltro era già successo in passato per esempio con l'iPhone SE, a quanto pare Apple ripeterà questa mossa. Questa volta però appunto lo farà con gli iPhone top gamma. E per chiudere in bellezza si parla di Samsung. Infatti pochi giorni fa è stata finalmente ufficializzata la data dell'evento Samsung Unpacked, in cui l'azienda coreana svelerà il nuovo Samsung Galaxy S10. Si terrà il 20 febbraio del 2019 a San Francisco, quindi tra poco più di un mese. E chiaramente ci sarà anche la live streaming dell'evento sul sito samsung.com oppure su YouTube. Hanno pubblicato anche un video ufficiale dell'evento, sarebbe questo qui. Ovviamente ha mandato in sommossa tutto l'internet che adesso cerca di indovinare quale sarà la killer feature spoilerata, anticipata da questo trailer. Alcuni hanno ipotizzato che questa linea di demarcazione al centro del video si tratti di una piega, quindi che il Samsung Galaxy S10 sia foldable, pieghevole. E io non sono d'accordo perché è vero che Samsung sta investendo molte risorse negli smartphone pieghevoli, ma è troppo presto, sarebbe una mossa troppo rischiosa rendere uno smartphone così popolare come l'S10 pieghevole tramite una tecnologia così acerba, io lo escluderei. C'è invece chi ha ipotizzato che questa linea sarebbe appunto uno dei bordi dello smartphone, quindi sarebbe finalmente un vero e proprio senza bordi, o comunque avrebbe le cornici tra le più piccole in assoluto della storia degli smartphone. Ad ogni modo tra poco più di un mese sarà tutto ufficiale, sapremo tutte le sue novità e chiaramente ne parleremo in un video più approfondito qui sul canale in attesa della sua recensione completa. Oh, e parentesi, lo smartphone di cui avevamo parlato qualche mese fa in un video, il primo smartphone pieghevole commercializzato, il Royal Flex Pie, ha iniziato le vendite in Cina, è disponibile per il preordine e indovinate un po', l'ho acquistato al prezzo di 1388 euro. Chiaramente questa cifra per quello smartphone in sé è troppo, si paga l'innovazione, si paga la ricerca tecnologica. Non so ancora quando lo spediranno, non so ancora quando arriverà qui in Italia, però il preordine l'ho eseguito, quindi appena sarà in mano mia sarò felice di portarvi nuovi contenuti su una tecnologia così futuristica. Detto questo ragazzi, questo era tutto per il video domenicale di oggi, spero che vi sia piaciuto, spero che queste notizie siano state interessanti per voi. Se è così, fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice. Seguitemi su tutti i miei social network, come sempre il link ve lo lascio qua sotto giù in descrizione, cliccando qui ai lati potete raggiungere altri miei due video, e invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale. Se lo fate siete dei grandi, io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!